Ciao ragazzi, questa è una puntata nuova e particolare di Balloon Party V perché ci troviamo all'estero, siamo in Germania, a Nuremberg, alla fiera del giocatore. Abbiamo un paviglione intero, tutto dedicato al mondo del party, veramente una goduria. Adesso lo visiteremo insieme, andremo anche ad intervistare qualcuno e buon divertimento. A dopo, ciao ragazzi. Siamo nello stand di Gemar e abbiamo la fortuna di avere Gloria Veta, direttore vendite e del marchio. Buongiorno Gloria. Buongiorno. Ti facciamo qualche domanda e volevo chiederti la prima cosa, presentaci Gemar. Gemar, leader di produzione lattice in gomma, palloncini lattici di gomma, da oltre un secolo, è una tradizione che ci tramandiamo da oltre quattro generazioni e la nostra passione è quella di portare sorrisi in giro per il mondo con i nostri palloncini, in alzare il momento, nel fin del momento. Bene. Senti Gloria, qual è il tema più forte o i temi più forti del 2019 e quali pensi saranno di quest'anno? Diciamo che il 2019 è andato con tanti prodotti di punta, abbiamo lavorato tanto sul colore, abbiamo introdotto una nuova linea di palloncini shiny, quest'anno abbiamo arricchito quella stessa gamma con un formato nuovo, 19 pollici e abbiamo inserito una nuova gamma di colori Crystal Rainbow che sono dei colori molto brillanti, trasparenti e molto leggeri proprio per fare festa. Bene. Gloria, l'ultima domanda. Vuoi raccontare ai fan di Ballon Park TV cosa fa Gemar per tutelare l'ambiente? Gemar innanzitutto lavora solo utilizzando, creando, producendo palloncini lattici di gomma naturale. Per noi è importante questo fatto perché il prodotto è naturale, nasce dalla terra con l'albero della gomma da cui viene estratto questo siero, proprio molto simile al metodo che si usa per lo sciroppo d'acero e con questo siero si colorano i sieri e si vanno a creare i palloncini. È un prodotto naturale ma molto flessibile, espande più di 400 volte la nostra misura e permette anche al prodotto di essere completamente biodegradabile. Perfetto. Gloria, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un fantastico 2020. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.